Sono Massimiliano Bitossi, sono capocentro bordo del cantiere di Muggiano e in particolare capobarca della nuova patrugliatore d'altura nave Paolo Tauron di Revelle. La difficoltà della nostra attività è quella di coordinare quotidianamente l'attività di circa 500 persone, attività che spesso sono in interferenza una con l'altra, gestire la parte tecnica e quindi dare indicazioni di come effettuare l'attività, fare lavorare le dita al migliore dei modi e soprattutto nella situazione di sicurezza massima. Il varro sarà effettuato nella prima fase di traslazione mediante carelli sulla chiatta, che viene poi rimorchiata fino al nostro bacino galleggiante dove poi la nave rimarrà per un'applicazione per fare il ciclo di carena, dopodiché verrà effettuato quello che è il varro vero e proprio, quindi l'allagamento del bacino e la messa in acqua dell'unità.